ciao a tutti benvenuti su menti taro e a questa nuova rubrica che ho pensato di iniziare e che tratta appunto della magia dei tarocchi ovvero della possibilità di utilizzare i tarocchi non solo per conoscere la nostra situazione noi stessi e volendo anche quello che potrebbe arrivare a noi in futuro ma soprattutto per la possibilità che ci danno di cambiare la nostra vita di apportare quei cambiamenti in linea con i nostri desideri e bisogni più profondi perché è possibile beh perché i tarocchi con i simboli e i disegni che hanno sono una chiave di comunicazione con il nostro inconscio rappresentano gli archetipi universali come la teoria di jung spiega bene e quindi riescono a comunicare e a dialogare con il nostro inconscio attraverso questa comunicazione con il nostro inconscio possono stimolare appunto gli archetipi universali e provocare quegli eventi sincronici che sono in linea con i nostri desideri e i nostri bisogni più profondi che sono poi questi desideri rappresentati dalle carte che vanno a essere utilizzate in questa pratica. Cosa bisogna fare per iniziare appunto a utilizzare i tarocchi in questo senso? Beh innanzitutto scegliere un mazzo dedicato solo a questo scopo e deve essere un mazzo appunto che vi ispira in questo senso io per esempio uso questo perché anche di magico secondo me i suoi disegni mi danno molto questa questa ispirazione questa potenza diciamo di cambiamento molto 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 forte ecco questi sono i tarocchi della rosa sacra comunque voi potete scegliere il mazzo appunto che vi rimane più congeniale in questo senso però appunto consiglio che sia dedicato soltanto a questo scopo dopodiché una volta comprato il secondo passaggio che dovete fare è quello di purificarlo questo perché perché appunto è passato attraverso tante mani durante il processo di fabbricazione di vendita e quindi le carte possono aver accumulato energie esterne che vanno appunto vanno tolte attraverso la pratica di purificazione la pratica più semplice in questo caso è quella di passare ogni carta sopra il fumo per esempio di un incenso io consiglio il sandalo incenso che può essere un cono o un bastoncino e passare ogni carta sopra il fumo in questo modo togliete tutte queste energie esterne potrà la carta attrarre le vostre energie nella successiva fase dopodiché una volta purificato le carte del del mazzo dovrete consacrare appunto il mazzo a questo scopo preciso consacrare vuol dire vuol dire dedicarlo fondamentalmente dedicare il mazzo alla pratica magica appunto solo per quelle quindi dovrete focalizzarmi sulle carte magari meditate un attimo 5 minuti prima e dopodiché dichiarate a voce alta lo scopo di questo mazzo cioè il fatto che lo dedichiate a questa pratica magica ultimo passaggio prima di poterlo utilizzare quello di caricarlo della vostra energia quindi io vi consiglio magari di esporlo alla luce della luna se possibilmente possibilmente piena per un'intera notte su un tavolo così stendete magari con con il dorso verso il tavolo quindi esporre le immagini alla luce della luna per un'intera notte e poi ogni volta che lo utilizzerete utilizzerete le sue carte per questo scopo lo caricherete con la vostra energia come ho spiegato appunto precedentemente per qualsiasi mazzo cioè porre la vostra mano quella più attiva sopra il mazzo e immaginare un flusso di energia che passa sulle carte dalla vostra mano e questo è una pratica che sarebbe meglio fare ogni volta appunto che utilizzerete le carte in questo senso dopodiché basta dopodiché potrete utilizzarlo ogni volta che vorrete per appunto la pratica magica i prossimi video vi descriveranno varie tecniche per poterlo fare potrete utilizzare il mazzo di tarocchi con altri strumenti con per esempio le pietre con la magia delle candele o anche degli incensi vedremo di volta in volta quelli più appropriati però ecco io vi consiglio comunque di personalizzare quello che vi dirò nel senso il procedimento che suggerirò sono semplicemente delle suggerimenti delle basi su cui voi dovrete lavorare da soli perché appunto più il percorso il procedimento è personalizzato più anche è efficace dovete sentirlo vostro per cui io posso suggerire delle carte posso suggerire delle pietre delle candele quant'altro da utilizzare però se lo sentite vostro bene altrimenti siete liberi benissimo di personalizzare la cosa e di utilizzare le pietre le candele le carte che sentite più in linea con l'obiettivo che volete raggiungere e con voi stessi se questo video vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivate la campanella in modo non perdere i prossimi video di questa rubrica a presto ciao ciao ciao